E ora magari ci fai una suonata dal tuo zio. Sì. Sì. Come si chiamava? No, non ha un nome questa suonata. No, è tuo zio. Ah, mio zio. Santo Muraka. È una suonata di Santo Trunzo, lo sai? Sì, ed è simile quella di Santo a quella di Gabriele Cimino. Ok. Cioè, cambia, però è simile come andamento. È la suonata tua? Eh? La suonata tua. Cosa? La mia suonata? Vabbè, io diciamo che la mia suonata è quella che apparteneva a mio zio, no? Quindi diciamo che la sento più mia e la considero una mia suonata. E niente, poi c'è questa qua di Gabriele che mi piace molto. E niente, questa qua.